Naturalmente siamo vicini a tutte le famiglie di questi nostri colleghi e anche la famiglia del paziente deceduto. Diciamo che la nostra collega Mariotti Cinzia è iscritta all'ordine di Pesaro Urbino ormai dal 1994 e Cinzia ha sempre operato con grande professionalità senza mai tirarsi indietro in ogni difficoltà che il lavoro sanitario presenta. Non da meno, possiamo dire, dell'autista soccorritore di Stefano Sabatini, che è sempre stata una persona disponibile a fare diversi turni in più pur di coprire il turno lavorativo nelle varie difficoltà che c'erano, nella possibilità comunque di mandare avanti l'attività. Una persona sempre corretta, molto professionale. E anche il nostro medico che purtroppo, Sokol, sappiamo che da qui a breve sarebbe ritornato sicuramente in Albania per iniziare una nuova vita, eppure purtroppo non ce l'ha fatta. E diciamo che è importante dire che troppo spesso viene sottovalutato il lavoro dell'emergenza di chi comunque opera direttamente sul nostro territorio sanitario. L'emergenza è qualcosa di particolare, qualcosa che ogni cittadino ne usufruisce nel momento del bisogno. Immaginate quando uno chiama da casa perché magari impreda un ictus, ha un infarto, ha un qualcosa che comunque ti crea difficoltà verso la possibilità di mantenerti in vita. Ecco che parte subito l'ambulanza. L'ambulanza quindi è un qualcosa che deve arrivare in terpi stretti. Prima arriva e meglio è. Quante volte parliamo quanto è importante arrivare subito? e quanto è importante la sinergia tra l'infermiere, il medico, quanto sono importanti per poter predisporre un percorso curativo. Quindi è l'insieme di questo lavoro che porta a un risultato. E vedere quanto è successo fa capire quanto erano uniti e quanto era importante soccorrere il paziente. Quindi noi in rappresentanza, naturalmente parlo io, ma di tutti gli operatori sanitari non ci azzarderemo mai a trarre delle conclusioni. Qui non ci sono colpe. Qui c'è una situazione dove qualcuno stava cercando di portare a termine il proprio lavoro.